Giovanni Impastato Mio fratello era una persona normalissima, animata di quella grande voglia di giustizia, di libertà e per più di dieci anni è stato impegnato con tutto se stesso nella lotta contro la mafia. Io lo descrivo in questo modo, non soltanto come militante politico e militante antimafia, ma era una persona di una profonda umanità. Tutta la sua vita l'ha dedicato a fianco alle persone che soffrivano, a fianco a quelle persone che lottavano per cambiare la loro ciste realtà. Nel migliore dei modi sicuramente. Ecco questo era Peppino. E una cosa importante di Peppino è stato il fatto che lui come militante antimafia, diciamo che è un caso unico, raro, perché lui ha operato una grande rottura. Che questa rottura non è avvenuta solo all'interno dell'ambiente della società dove lui viveva, ma soprattutto all'interno della propria famiglia. Una famiglia di origine mafiosa. Ecco, Peppino era figlio del suo tempo. Lui ha vissuto le grandi esperienze di lotta del 68, del movimento studentesco del 68. Veniva dall'esperienza delle grandi marce pacifiste, le battaglie pacifiste contro la guerra del Vietnam. Diciamo che ha avuto un percorso di impegno sociale e culturale, ma soprattutto di militanza politica. Com'è cambiata secondo lei la lotta alla mafia rispetto a 30 anni fa? Ci sono maggiori possibilità di riuscire a sconfiggerla? Ma sicuramente sì, è certo che c'è la possibilità di sconfiggerla. Poi la lotta contro la mafia è cambiata rispetto a tanti anni fa perché è cambiata pure la mafia. Cioè la mafia è riuscita ad adeguarsi ai tempi, così come noi cerchiamo di contrastarla in maniera diversa. Il problema, credo, è che se noi dobbiamo veramente porci l'obiettivo di sconfiggere la mafia, che la mafia si può sconfiggere. Non c'è ombra di dubbio perché poi in fin dei conti, come diceva Giovanni Falcone, non è che questa gente sono dei marziani che vengono da altri pianeti e perciò addirittura non si possono sconfiggere, sono intoccabili. Assolutamente no. Cioè sono uomini in carne ed ossa come lo siamo noi. Il problema è che loro sono forti perché fanno leva su una cultura mafiosa, nello stesso tempo godono di grande protezione a livello istituzionale e questa è la loro forza. Si basa sull'omertà, sulla paura della gente. Se noi dobbiamo sconfiggere la mafia, chiaramente dobbiamo fare leva sulla cultura mafiosa. Nello stesso tempo dobbiamo cercare di avviare un sano progetto di sviluppo economico e morale. Quello che stiamo facendo noi, cioè la nostra presenza nelle scuole, è fondamentale perché lì nelle scuole chiaramente si formano le nuove generazioni. È da lì che dobbiamo partire, ma non soltanto nelle scuole. Un'altra cosa importante che noi abbiamo fatto in questi ultimi tempi è cercare di aggredire la mafia nel patrimonio. La famosa legge 109 sulla confisca dei beni, che è il proseguimento della riforma agraria degli anni 40, della legge Rognoni-La Torre, dove le cooperative di libera terra lavorano nelle terre confiscate dalla mafia. Ecco, questa è stata una grande vittoria. In questo modo si può sconfiggere la mafia, come anche il lavoro dei movimenti in questi ultimi anni che hanno creato dei grandi conflitti sociali. Questo è anche un modo pure di, è una presa di coscienza, è un modo anche di sconfiggere la mafia. E poi, chiaramente, anche con le leggi. Chiaramente noi a livello giudiziario si sono ottenuti anche dei successi importanti, i max processi, le condanne per i mafiosi, il carcere duro. Ecco, diciamo che se noi continuiamo a seguire questa strada, io credo che possiamo sconfiggere la mafia. Però bisogna anche partire dalle battaglie, dal basso, dalle lotte sociali, le cose che faceva Peppino Impastato, appunto, durante il suo percorso e durante il suo impegno. E invece quanto è stato importante il film I Cento Passi per lei, per la sua famiglia, ma soprattutto per la memoria di Peppino? Ma il film I Cento Passi è stato importantissimo perché ci ha dato la possibilità di far conoscere Peppino al grande pubblico. C'è grande pubblico, io intendo numeroso.